ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi vedremo questo signore che abbutterà l'iphone xs e lo lancerà dalla scala più alta più ripida allora ragazzi spolliciate e iscrivetevi al canale allora vedete cominciamo con questo video allora praticamente c'è questo signore che ovviamente in inglese quindi non voglio far ascoltare allora secondo me allora questo è l'iphone xs e forse questo signore a qua accanto mamma mia che ripita questa scala forse il fondo di là ragazzi se uno scende c'è mamma mia ragazzi spero che si romperà tutto perché se lo butterai da là si romperà tutto e appena scendi lo troverai aiuto aiuto ragazzi aiuto questo ragazzi è il volume in inglese però ragazzi vuoi capire cose in inglese non capisco allora ragazzi abbassiamo così magari nel prossimo video magari che non c'è la voce magari poi allora ah lo deve buttare con la telecamera ragazzi mamma mia no 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 non lo fare sì 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 spero che guardate è tutto rotto ragazzi guardate quanto è tutto rotto guardate l'iphone xx è tutto rotto ma che cosa è quella cosa la batteria spero che non sia batteria perché sennò fuma tutto ha lo schermo ancora intatto un po di cosa wow però non funziona il touch neanche si spegne è tutto bloccato no what ah vuoi essere magari vediamo ah è un altro telefono questo capito sì sì è un altro telefono ma spero che questa sia la cover o il telefono subito perché allora questo anche lo butta non so se lo butta eh sì questo lo butterà anche ragazzi questo lo butterà anche ecco aiuto dai ragazzi io questa cosa al mio telefono non la farei mai ragazzi perché si romperà tutto ecco adesso lo prende eh ah fa vedere la telecamera che stranissimo aiuto ma è troppo alto sto piano dove va a finire no troppo alto ragazzi mi sta venendo aia 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 ragazzi mi fanno male tutti gli occhi c'è ragazzi l'avete visto c'è aiuto spero che siano tutti rotti ecco no povero telefono se se capovolto è quella la batteria dell'iPhone è un iPhone verso con la cover però si è tolto aiuto ma spero che quella sia la batteria c'è ragazzi avete visto ci ha fatto vedere la telecamera andiamo a quanto dura il video ah un altro po' un altro poco allora mamma mia ciao ragazzi scrivete qui sotto nei commenti se voi farete una cosa del genere al vostro iPhone io non la farei mai perché io ci tengo molto al telefono e quindi non voglio rompere questo telefono questi telefoni che so aiuto non voglio rompere questi telefoni perché sono troppo belli quindi cioè come fanno a buttarli cioè questo è l'iPhone è l'iPhone X S ecco ma poi la batteria spero che in fondo perché se se qui ecco adesso fai vedere tipo allora sembra ancora intatto solo che lo schermo è un po' rotto è un po' spaccato volevo dire questo è l'iPhone questo è lui con la telecamera è caduto dalle mani ragazzi ah ma questa non è la cover io pensavo che fosse questa è la pubblicità ragazzi scusate ecco